Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. Fino al 13 novembre il Museo di Zoologia ospita Tempo da Lupi, una mostra sul lupo in Italia, con foto e quadri dedicati a questo bel animale che sta ripopolando i nostri parchi e non solo. Infine si tiene nei prossimi weekend di ottobre dentro l'ex caserma Guidoreni l'Outdoor Festival dedicato alla street art, all'archeologia industriale e alla cultura urbana. Come sempre 060606 o comune.roma.it